La parola di Dio ci mette dinanzi a due misure, la misura dell'uomo e la misura di Dio. La misura dell'uomo nel racconto in cui si parla del re Davide che fece il censimento del suo popolo per conoscere quanto è forte, quanto è potente, qual è il numero del suo popolo e questa è un po' la tentazione di tutti, quello di stare a misurare, a misurare quanto abbiamo realizzato nella nostra vita, quali sono le nostre capacità, qual è il nostro carisma, misurare quello che noi siamo capaci di fare. Dall'altra parte del Vangelo abbiamo la misura di un Dio, di Dio e cioè il fatto che il profeta non ha altro che disprezzo proprio nella sua patria, cioè l'indole, la natura del profeta, dell'uomo di Dio è proprio il non essere accolto, il non essere ascoltato, addirittura quello di essere disprezzato, questa è la misura di Dio. Che significa allora tutto questo per noi uomini? Non stiamo a misurare le nostre forze, le nostre qualità, le nostre opere, non conta questo, ciò che conta essere l'uomo di Dio e quanto se uomini di Dio, uomini che si porta la sua parola, tutto ciò che si è realizzato, tutto ciò che si è fatto, viene spesso disprezzato. Paradossalmente il disprezzo, la non accoglienza, il non ascolto è il parametro più vero dell'evangelizzazione, del trasmettere Dio agli altri. Buon amissio.